Musica Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata di Viaggio in Molise in sottofondo potrete sentire alcune note del concerto che il Tratturo a breve porterà sul palco dell'Adutorium di Sernia in occasione del Carnevale delle Maschere Zomorfe qui in città quindi un appuntamento che rientra nel Carnevale musica etnica, musica popolare, tradizione al centro di questo evento Restate con noi musica 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 mauro Gioielli musica 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 Sì, ci hanno chiesto di fare il concerto proprio per far ascoltare un po' di musica molisana quindi di sonorità del nostro territorio, agli ospiti che verranno da fuori verranno dall'estero ma anche da altre regioni d'Italia quindi un'occasione per far ascoltare le nostre zampugne, le ciaramelle, gli organetti un po' tutto il repertorio del tratturo Ecco, un repertorio che si sposa bene con quelle che sono le tradizioni del carnevale non soltanto i zernine ma anche appunto europee più volte lei ha parlato anche della fratellanza che c'è tra Molise e Croazia Sì, in molte di queste località da cui provengono i gruppi ci sono strumenti particolari che un po' richiamano anche i nostri se penso alla Sardegna, la Onedas Sarde, in effetti è una zampugna senza odre per dirla in parole semplici ma poi i gruppi stessi portano di solito suonatori con loro quindi durante la parata, durante il corteo ci saranno anche suonatori musicisti tradizionali delle varie zone d'Europa dalla Croazia alla Slovenia, dalla Sardegna, dalla Lucania quindi ognuno ha anche un repertorio musicale che serve da colonna sonora alla sfilata Ecco l'ennesima occasione in cui la musica incontra quelli che sono gli eventi le tradizioni, anche le differenze Beh sì, la musica si sa è un linguaggio universale noi abbiamo avuto la fortuna di suonare praticamente in tutto il mondo numerose nazioni estere e non c'è bisogno di spiegare più di tanto quel che stai facendo i suoni arrivano e la gente comprende se stai facendo una tarantello stai cantando un canto d'amore anche il testo se pensi che i nostri testi sono quasi tutti in dialetto quindi sarebbero incomprensibili anche in diverse aree geografiche italiane figurarsi all'estero ma si sa, la musica è un linguaggio universale quindi credo che il messaggio che vogliamo dare con i nostri suoni, con i nostri canti sia comprensibilissimo L'amore mi aiuta L'amore mi aiuta aiuta a tua età L'amore mio ratorna torna alla foggia me la riporta una rosa di maggia L'amore mi aiuta l'amore mi aiuta torna alla foggia l'amore mi aiuta l'amore mi aiuta torna alla foggia L'amore mi aiuta di scalco, del tratturo, lei che cosa suona? Sono zampogne, ceramelle, fiati in generale, flauti, flauti pastorali. Ma da quanto tempo? Da una vita, da più di 40 anni penso, 65 anni quindi ti dico, anzi. Sentivamo durante le prove un brano dedicato alla transumanza, sono strumenti che si sposano bene con la tradizione molisana, con la tradizione che forse un po' anche si è persa, è un modo forse anche per riscoprirla. Noi sono veramente decenni che cerchiamo di portare avanti queste tradizioni e credo sia anche molto gradito il fatto, lo dimostra il fatto che sono veramente 40-50 anni che suoniamo, che cerchiamo di portare in giro gli strumenti che sono della nostra tradizione, tipica le zampogne, le ceramelle e poi anche il repertorio, c'è Mauro che è un grande studioso ricercatore che negli anni ha fatto grandi cose per la musica etnica molisana. Ecco ma durante i vostri viaggi anche all'estero come viene recepita la musica molisana, la tradizione? C'è un fil rouge che lega la nostra terra anche a nazioni che apparentemente sembrano diverse? Ma sì, è sempre ben accettata o anche perché poi il filo che ci unisce, perché questi strumenti, le zampogne e gli strumenti a otre sono presenti in quasi tutti i paesi, in tutta Europa, in Francia ci sono le cornamuse francesi, le gaite spagnole, le irlandesi, in Polonia siamo stati due o tre volte, in Bulgaria lo stesso, quindi comunque forse è un peccato che non siamo riusciti a valorizzare molto questo discorso grosso all'inizio degli anni 2000, forse si è fatto su scapoli con un progetto e poi forse si è un po' persa, c'erano delle grosse potenzialità per la regione, per essere il centro proprio almeno d'Europa per questo strumento. All'inizio degli anni 2000 questo è stato fatto un grande lavoro che poi un po' si sta perdendo, speriamo che si riesca a recuperare e a fare meglio ancora. Ecco, torniamo per un attimo al contesto del carnevale, un carnevale delle maschere zoomorfe che coinvolge gruppi provenienti da tutta Europa, maschere diverse che rispecchiano le interpretazioni e le tradizioni di un evento che da sempre affascina grandi e piccini, quindi questo filo conduttore con il carnevale è interessante. Ma sì, anche in questo Mauro ha fatto un grandissimo lavoro, per esempio per la ripresa del Cervo di Castelnuovo e Volturno, ha fatto pubblicazioni già negli anni 80, all'inizio è stato uno dei principali organizzatori per la ripresa di questo carnevale e poi qualche cosa si era fatto anche in Isernia in passato, però sono molto contento che siano riusciti a rimettere insieme questa bellissima manifestazione e credo che quest'anno stiano facendo delle cose molto molto interessanti e importanti. Dove racconta la storia, la vera di Santa Lucia, l'occhia lucente, lucente, lucchia di malinconia, Santa Lucia, l'occhia lucente, lucchia di malinconia, Santa Lucia pria, avarenta la crotta scura, Santa senza peccata, Santa senza paura, Santa senza peccata, Santa senza paura. Potete rivederla sul sito di www.telemolise.com. Ciao!